L'alta tecnologia al servizio della sicurezza dei cittadini con una collaborazione pubblico-privato. Questo è il senso dell'accordo stipulato oggi a Palazzo Silone tra la Regione Abruzzo e la società Telespazio S.P.A. In base a questo accordo il Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione potrà avvalersi della strumentazione tecnologica all'avanguardia di Telespazio, rappresentata dalla rete regionale di monitoraggio costituita dai radar di Pereto in provincia dell'Aquila, di Tortorete in provincia di Teramo e di Tufillo in provincia di Chieti, migliorando così di molto in qualità tempistica l'elaborazione di scenari di previsione di rischio rappresentati da alluvioni, frane, valanghe e incendi. Una collaborazione, ha annunciato il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso, che ben presto si estenderà anche la partita decisiva del rischio sismico, a cominciare da territori particolarmente a rischio come quello di Sulmona. Per noi è particolare motivo di soddisfazione e di orgoglio poter lavorare con la Regione per un servizio di così alta importanza. Per il resto siamo ancora più felici di poter eventualmente collaborare in futuro per poter intervenire su un progetto che possa anche aiutare alla prevenzione da qualsiasi tipo di rischio. Noi abbiamo necessità di sapere, di conoscere in anticipo per poter poi anche reagire adeguatamente e proporzionalmente. Noi abbiamo attivato questa convenzione con Telespazio che è un giacimento di competenza e di bravura e ci fa piacere che ci sia stata anche cordialità di corrispondenza. C'è cioè la comodità di averli nel suolo abruzzese con una storia di grande orgoglio e di grande dignità e noi stiamo raccogliendo l'opportunità di questa collaborazione. Chiederemo a Telespazio di aiutarci anche per quanto riguarda la verifica della staticità e della stabilità di tutto il costruito storico di Sulmona. Vediamo se è sostenibile sul piano finanziariamente e sul piano anche del diritto della procedura.